Allora, c'è la risponde così, se io dico... 10 a 9... Mamma mia ragazzi, è fantastico, solo al cielo se c'è... 10 a 9... 10 a 9... Con la nera, con il normale... E ci vediamo per la torta... 10 a 9... 10 a 9... Ma non è un po' che portano tu... 10 a 9... Amato nel mio ultimo gioco, il raccetto con lo sposo... Invegare le donne con lo sposa... 10 a 9... 10 a 9... 10 a 9... E ci vediamo per la scelta... 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 A tutti i cammini... E ci vediamo per la scelta... Invegare le donne con lo sposo... Ragazzi, il top è scattato la terza notte, Daniela! Ha fatto il complesso, Daniela! Vai al centro! E' il saluto! Ma non è? La parte mia, ma non è? E' il professor da desappare, le amiguità del saper, ma non va? Grazie a tutti